Mi chiamo Paolo D'Innocenzo, sono il direttore vendite della divisione professionale di cose in Italia. Perché siamo Audioforum? Audioforum è un evento dedicato alla formazione all'interno di un evento più ampio che è organizzato a SIEC. Noi siamo parte del SIEC Senda la fondazione per cui siamo particolarmente sensibili a tutte le problematiche relative alla formazione e al miglioramento delle qualità professionali degli operatori di settore, da chi si occupa dei system integration e da chi si occupa delle installazioni. Per cui un'occasione come questa non potevo perderla per cercare il nostro contributo per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze e delle competenze tecniche degli operatori che operano nel settore dell'agro professionale. Oggi abbiamo presentato, o meglio, abbiamo parlato nuovamente della nostra tecnologia innovativa che riguarda i sistemi di attività professiva per l'installazione che si ha chiuso, in la linea Unmatch e la linea degli applicatori PowerMatch e ci sembrava un'occasione giusta per ribadire un concetto di base dell'azienda che è quello di offrire sempre innovazione ai prodotti che risolvono le problematiche a chi progetta e a chi stava a sistema di professione. a chi Grazie a tutti